Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale La Polizia Municipale di Fano festeggia il 154esimo anno di fondazione 900.000 euro di sanzioni e reati in caso Sbaglia a manovra al parcheggio Donna Fanese in Maserati danneggia un'auto e scappa Rintracciata grazie alle telecamere e video sorveglianze Un giovane Fanese trova per strada un portafogli pieno di soldi E lo restituisce al legittimo proprietario Tra avvistamenti e smentite, lo squalo bianco in Adriatico Continua ad estare interesse e per l'esperto è tutto nella norma L'atleta paralimpica Giussi Versace Ritira il premio giornalistico Valerio Volpini E incontra gli studenti delle superiori Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia Con Marco Ferri Buonasera, buonasera a tutti i cari telespettatori di Fano TV Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione sul canale 17 Con una messa celebrata nella Basilica di San Paterniano E' stato festeggiato ieri il 154esimo anno di fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Fano Grande partecipazione, come non si vedeva da tantissimo tempo Per la messa fuori orario celebrata nella Basilica di San Paterniano Appositamente per il Corpo di Polizia Locale Nel suo 154esimo anniversario della sua fondazione Celebrata dal Vescovo di Fano Armando Trasarti Oltre ai componenti del Corpo in Servizio Presenti alla celebrazione anche 15 agenti in congedo E moltissimi familiari Segno del grande spirito di corpo che accomuna tutti Sia i presenti che i passati componenti della compagnia Non dobbiamo mai dimenticare che è un servizio a favore della comunità A favore del rispetto delle regole Ma soprattutto è un servizio vicino al cittadino E allora ecco, queste occasioni sono un modo per ritrovarsi Per far sentire un senso di appartenenza Ma anche un modo per ringraziare tutti coloro Che quotidianamente prestano un servizio per gli altri Il comandante di Quirico per questo ha espresso gratitudine ai frati di San Paterniano Per la grande disponibilità e al Vescovo per questa mattinata speciale Che fa il pari con un'altra messa celebrata il 31 ottobre scorsi Nei locali del Comando di Polizia In ricordo di tutti i caduti del Corpo di Polizia Municipale Asse portante dell'Ordine della Sicurezza della città di Fano La presenza di un Vescovo per quello che possa indicare Dice anche presenza dell'istituzione Insieme a tutte le altre istituzioni Di incoraggiamento, di motivazione per un ruolo che è delicatissimo Perché sono convinto sempre che sotto la divisa c'è l'umano E l'umano ha bisogno di relazione, di sorriso, di stretta di mano Di maturazione, di rispetto Al termine della cerimonia un breve rinfresco ha concluso Nel segno della condivisione e della convivialità Questa mattinata celebrativa del Corpo E la festa della Polizia Locale è stata anche l'occasione Per fare un bilancio delle attività svolte nel corso dell'anno Più di 900.000 euro incassati con le multe Reati in calo Eccetto quello più pericoloso di tutti Cioè il passaggio con il rosso Meno incidenti stradali Meno feriti sulle strade E meno sanzioni per violazioni del Codice della strada In un anno solare il bilancio nel 150esimo anniversario del Corpo di Polizia Locale Mostra che la prevenzione ed il presidio mirato del territorio con le risorse a disposizione Dà i suoi frutti Il comandante Alessandro Di Quirico snocciola i numeri delle statistiche Delle principali attività del Corpo In una condizione di sottodimensionamento di personale Ma che nonostante questo con i mezzi tecnologici a disposizione Ha permesso di contrastare fenomeni molto pericolosi Come la mancata revisione dei veicoli Un vero e proprio pericolo pubblico Abbiamo confrontato i dati dell'anno scorso in poche parole con quelli di quest'anno E siamo piuttosto soddisfatti Vi prometto che noi avevamo dovuto centelinare le nostre forze Perché sapete siamo ben 19 sotto organico 51 contro i 70 previsti Abbiamo dovuto fare di necessità virtù Quindi abbiamo monitorato la città per vedere Quali erano le reali necessità dei singoli punti del territorio Per i reati nati, notificati e pagati nel 2017 Il Comune ha incassato 911 mila euro Ma al di là del dato economico Una riflessione sulla sicurezza va fatta A togliere il sonno ai tutori del codice della strada E non solo Purtroppo è una delle infrazioni più pericolose in assoluto Passare con il semaforo rosso Da quando sono state installate le telecamere In Viale 1 maggio al semaforo del Lido Si sono verificate 2687 infrazioni Con una media di 200 al mese Con punte nei primi mesi anche di 600 rossi pieni In un solo mese E questo veramente è un dato che fa pensare Quanta gente non vede il semaforo rosso O non lo considera, forse è meglio dire Perché mi pare impossibile che non veda Dal momento che guidano Il passaggio con il rosso, il 90% È un incidente cerdale Quindi massima attenzione Se da un lato nel totale le infrazioni del codice della strada Sono calati I reati ambientali purtroppo A testimonianza di uno scarso senso civico Di alcuni cittadini Mostrano una severa impennata Triplicando il loro numero Passando da 111 a un totale di 352 Con i trasgressori pizzicati Grazie anche all'ausilio della videosorveglianza Un aspetto però su cui c'è ancora molta strada da fare Lo assolviamo il cittadino fanese dal punto di vista del codice della strada? Sicuramente sì Siamo a 62 mila abitanti Il numero delle multe mi pare inferiore La maggior parte sono brave a fanno, possiamo dirlo E grazie alle telecamere di videosorveglianza Quelle che sono state appunto installate nei punti di maggior traffico della città Una donna fanese è stata rintracciata dagli agenti di polizia locale Poco dopo aver danneggiato un'automobile in sosta La donna dopo l'incidente Invece di segnalare l'accaduto Ha pensato bene di dileguarsi pensando di averla fatta franca Così però non è stato La signora a bordo di un potente SUV Maserati Uscendo dal parcheggio di via Felice Cavallotti Vicino alla stazione ferroviaria Ha completamente staccato il paraurti Anteriore di una Mercedes classe A Facendo finta di nulla Peccato per lei che però la scena è stata osservata Da un passante che ha descritto ciò che era successo Su un foglio di carta Lasciato poi sul parabrezza dell'auto Quando la proprietaria si è accorta del danno subito E ha letto il biglietto Si è subito recata al vicino comando di polizia locale A denunciare il fatto In poco tempo gli agenti Grazie alle telecamere dislocate in città Sono riusciti a individuare la targa del Maserati E a rintracciare la signora in SUV La quale ora, oltre alla figuraccia Dovrà risarcire anche il danno La vicenda dello squalo bianco Quello avvistato a largo della costa fanese La guardia costiera ha invitato alla prudenza Mentre per il professor Corrado Piccinetti Esperto del laboratorio di biologia marina di Fano La presenza di uno squalo in Adriatico è del tutto normale Ma come è grande È immenso Professore, allora In questi giorni si parla qui Nelle ostre acque Di presenza di squali Insomma, ci sono E perché ci sono soprattutto? Sì no, gli squali innanzitutto Sono dei componenti di quello che è la fauna marina Normali E ci dovrebbero essere quasi sempre Solo che ce ne sono di tante specie di squali Per esempio, squalo volpe Quello con quella coda arcuata molto lunga Eccetera È un abitatore normale Perché praticamente Tutti gli anni ne vengono pescati 10, 12, 15 Secondo con i vari sistemi Anche l'altro ieri ne hanno preso uno Quindi è frequente Quello che è lo squalo bianco Che è uno squalo forse di maggiori dimensioni Il più grosso, il più temuto Quello che ha la fama di essere il più cattivo È un grande predatore Che però segue le sue prede E quindi dove vanno le prede Va anche lui Quindi siccome la sua preda preferita Sono i tonni E quindi lui segue Quelli che sono i gruppi e i branchi di tonni Che negli ultimi anni Sono molto abbondanti Un po' in tutto il Mediterraneo Ma in particolare anche qui in Adriatico Dove sono venuti a banchettare i tonni Mangiandosi sgombri, surri Pesce azzurro, sardini Tutto quello che trovano Quindi essendoci i tonni Presenti in abbondanza È anche normale Che il predatore dei tonni ci venga E si trovi a suo agio Mangiandosi un tonno ogni tanto Quindi se è stato visto Non è una cosa così anomala La sua presenza potrebbe essere assolutamente possibile È possibile, è normale Direi che fa parte della natura Sarebbe come se uno dicesse Ho visto un lupo E dico vabbè Il lupo fa parte del suo ambiente Che c'è Se uno ne vede uno tutti i giorni Forse sono troppi Ma di vederne uno ogni tanto Soprattutto noi siamo in una zona Un po' marginale Per questi pesci che vivono in acque più profonde In acque in mare aperto Eccetera Se viene in Adriatico È perché ha trovato Questa ricchezza particolare In questo periodo di tonni E quindi viene Se lo mangia Con notevole facilità E lui ha degli scatti molto veloci Riesce anche a prendere anche dei tonni I quali cercano di scappare Ma essendoci in umbranco Trova sempre il più Il più debole Quello che corre meno svelto degli altri Lo acchiappa Una 25enne Una ragazza di 25 anni Marchigiana Anna Tiberi Originaria di Fabriano In provincia di Ancone Morta ieri a Uxi In Cina Cadendo dal terzo piano Di un hotel In cui lavorava come mediatrice linguistica La ragazza avrebbe fatto un volo Di una decina di metri Ed è morta sul colpo Le autorità locali Stanno indagando Sulle cause di quello Che per il momento Viene considerato come un incidente Una famiglia conosciuta Fabriano Il papà del 25enne Ora in pensione Svolge attività di volontariato In diocesi Il fratello della ragazza È in contatto Con le autorità cinesi In attese del nulla osta Per il trasferimento Della salma in Italia Due funzionari Del consolato di Shanghai Si sono recati sul posto E stanno lavorando A stretto contatto Con la polizia locale L'atleta paralimpica Giussi Versace Questa mattina a Fanno Ha ritirato il premio giornalistico Valerio Volpini E ha incontrato Gli studenti Delle superiori Da Ballando con le stelle All'Iceo Torelli di Fanno Passando per 11 titoli italiani Di atletica Svariati record Un argento E un dumbronzo A livello europeo L'atleta paralimpica Conduttrice Televisiva scrittrice Giuseppina Versace Per tutti i giusi È arrivata a Fanno Per ritirare il premio giornalistico Valerio Volpini Giunto alla sua decima edizione Bandito da Il nuovo amico Settimaniale Della diocesi Di Pesero Fano Urbino Il prestigioso riconoscimento Viene assegnato In collaborazione Con la rete delle scuole Della provincia E l'università Carlo Boll di Urbino A personalità Del panorama Massa mediatico Che si siano distinte Per una comunicazione Sobria Mai banale Né volgare Ed attenta Alle giovani generazioni Oltre a ritirare il premio Giuseppe Versace In una intervista Alla giornalista di Avvenire Lucia Bellaspiga Ha raccontato Della sua esperienza Di vita Da quando In quell'intragico incidente Sulla Salerno Reggio Calabria Del 2005 In cui perse Entrambe le gambe La sua vita Cambiò radicalmente Il premio Fa sempre piacere Poi in maniera particolare Come in questo caso Mi viene assegnato Perché ho avuto Un'attenzione particolare I giovani I giovani sono Il futuro Poi I giovani Chi sono i giovani Io Io mi ritengo Nella categoria Mi inserisco E mi Attribuisco Questo titolo Di giovani Anch'io Penso semplicemente Che i ragazzi Le nuove generazioni Siano il futuro Loro possono aiutarmi A rabbattere Le barriere mentali Che gli adulti Che costruiscono E hanno costruito Nei confronti All'handicap E mi piace L'idea Che comunque A loro resta il fatto Che nella vita Non si possono fare programmi A volte disabili Si diventa Per un incidente Per una malattia Non c'è un perché O se c'è Non c'è tanto saperlo E quindi bisogna Fare la differenza Avendo comunque La prontezza Di reagire E continuare Ad amare la vita Se gli resta Questo loro Io sono già contenta Perché insomma Alla fine Le sfighe Nella vita di tutti Toccano A tutti Non c'è un cognome E uno stato sociale Che ti Preservi da questo No? Trova un borsello Pieno di soldi E lo restituisce Al legittimo proprietario Accaduto questa mattina A Fano In via Flaminia Protagonista Di questo bel gesto Un giovane Di 27 anni Fanese Che dopo aver visto L'ingente somma di denaro Contenuta nel portafogli Non ci ha pensato Un secondo E si è messo subito Alla ricerca Di chi lo aveva perduto Aiutato anche Da alcuni Commercianti Della zona E grazie Ai documenti Presenti all'interno Inutile raccontare La gioia Del fortunato proprietario Che un po' incredulo Ha ringraziato Il giovane Del suo Indimenticabile Gesto La parrocchia Del quartiere Vallato A Fano Si appresta A festeggiare I suoi primi 40 anni Di attività Con una serie Di eventi La chiesa Di San Paolo Al Vallato Di Fano Compie 40 anni Era il lontano 6 novembre 1977 Quando alla presenza Del Vescovo Mici E ad opera Dell'allora parroco Don Lanfranco Casali Veniva posata La prima pietra Della chiesa Divenuta oggi Un punto di riferimento Del quartiere Da qualche giorno Gli occhi dei curiosi E dei passanti Sono andati Sui due manifesti Celebrativi Affissi proprio sul campanile Ad un'altezza Di circa 13 metri In occasione Di questo anniversario Così importante La parrocchia Che ha organizzato Per martedì 7 novembre Alle ore 21 Una serata di festa Particolare Che ci viene illustrata Direttamente dal parroco Don Francesco Pierpaoli Il martedì 7 novembre Alle ore 21 Qui abbiamo invitato Tutti i parrocchiani Proprio per ascoltare Dalle voci Dell'architetto Che l'ha pensata Ma anche dei parruci Che si sono succeduti Il senso Il senso Di una costruzione Di un tempio Accoglieremo appunto All'esterno Di questo luogo I parrocchiani E dopo una preghiera E l'accensione Di un segno Che vorremmo tenere Durante tutto l'anno Qui Per ricordarci Questi 40 anni Entreremo Con queste luci In chiesa Dove ascolteremo Le testimonianze Vive Dei parroci Dell'architetto E di tutti coloro Che hanno messo mano Potremmo dire Agli strumenti del lavoro Per costruire Questa chiesa Quindi come In ogni casa Tutti siete accolti Perché c'è Sempre un posto in più Ecco Quella giunge Un posto a tavola Potrebbe essere L'invito Che vi rivolgiamo A tutti Perché ci siate anche voi Scherzo di cattivo gusto Quello che ha subito Il proprietario Di questo furgone Ford Transit Il mezzo è stato Imbrattato Con della vernice nera Nella notte Tra sabato e domenica In via Papa Giovanni XXIII A Lucrezia di Cartoceto Un danno Non da poco Visto che poi A metterci le mani Per ripulirlo Dalla vernice È stato Il carrozziere Un rispetto Che pare Non sia stato In qualche modo In qualche modo isolato Nella stessa notte Sempre a Lucrezia Ci hanno riferito Alcuni residenti Al telefono Sono stati presi di mira Altri due furgoni bianchi Nella zona di Villa Evelina E adesso lo sport Con Matteo Del Vecchio È il cinquantenne Oscar Brevi Nell'ultima stagione Al Padova Il nuovo allenatore Dell'Alma Juventus Fano Dopo l'esonero Di Agatino Cuttone Al quale è stata patale La sconfitta Di venerdì a Sassuolo Contro la Reggiana La settima In dieci partite Brevi Che in carriera Ha vestito le casacche Di Torino e Como Con cui ha debuttato Anche in Serie A Si è già seduto Con risultati Altalenanti Sulle panchine Di Rimini Torres e Spal E a lui Il patron Gabellini E il DS Menegatti Si affidano Si affidano per risalire La corrente Già a partire Da mercoledì prossimo Quando al Mancini Arriverà il Sant'Arcangelo Per uno scontro diretto Fondamentale In chiave salvezza Chi invece al momento Non ha problemi Di classifica È la G-Ban Virtus Che nel campionato Nazionale di volle Di Serie B Ieri ha centrato La terza vittoria In quattro gare La seconda Con bottino pieno In un pala Saiende Gremito in ogni ordine Di posto La formazione Di Mister Radici E del Vice Sorcinelli Ha superato Per 3-1 La Nef Osimo Rimontando Il provvisorio 0-1 ospite Senza storia Il secondo set Vinto per 25-15 Tirati Ma mai messi In discussione Il terzo E il quarto Con il tecnico Fanese Abile a trovare Dalla panchina Le giuste risposte Dopo che gli osimani Nel quarto parziale Si erano portati Sull'11-5 Sugli scudi Emanuele Lucconi 29 punti per lui Ed applausi Anche le prestazioni Di Maier E Spinelli Rispettivamente Autori di 12 E 7 punti Dal parquet Della pallavolo Passiamo a quello Del calcio a 5 Dove continua a veleggiare In vetta la classifica Il Flaminia femminile Che grazie al 2-1 Esterno di ieri Sul campo del Gran Zette Resta al comando Con 12 punti In 5 partite Nel campionato Di A2 Sofferta La vittoria Delle bianco-azzurre In terra veneta Arrivata Grazie alla doppietta Di Martina Mencaccini Che permette così Alle ragazze Di Alessandra Imbriani Di preparare con tranquillità La sfida di domenica prossima Contro i Bassotti Torino Vittoria esterna Anche per l'età beta Nel campionato Di Serie B maschile Con il quintetto Di Mariotti Corsaro a Forlì Per 4-2 Grazie alla doppietta Di Pazzaglia E ai sigilli Di Pietrelli e Bei Equilibrato Il match Fino al tredicesimo Della ripresa Quando i Granata Sabato in maglia azzurra Riescono a mettere la freccia E portarsi così A quota 8 In classifica Dopo 5 giornate Appena un punto Sopra i Cugini dell'Alma Che nell'ultimo turno Cadono al circolo Tennis Trave Per 6-4 Contro Faenza Sfortunati i ragazzi Di Mascarucci Che chiudono avanti Per 3-2 Il primo tempo E subiscono le reti Decisive A pochi minuti Dal termine Quando il risultato Era di 4 pari Per gli All Blacks A bersaglio Luigi Cazzola Damiano Giuliani Nicola Spiri E Nicolò Copparoni Ci spostiamo ora Al campionato di C1 Di Rugby Dove continua Il periodo nero Del Fano Che nella prima giornata Di ritorno Incappa in una sonora Sconfitta Sul campo Della capolista Iesi La sesta In altrettante partite Con i ragazzi Di Walter Colaiacum E Franco Tonelli Che restano ultimi In classifica Con soli 3 punti In cascina Frutto di 3 battute Dal resto Con meno di 7 Lunghezze di scarto Troppo il divario Tra le due formazioni Anche se dalla truppa Del presidente Giorgio Brunacci Ci si aspettava Una gara Decisamente diversa Soprattutto dal punto Di vista mentale Una gara Che sembrava essersi Messa sui binari giusti Al decimo Con gli ospiti In avanti Grazie alla punizione Di Alessandro Gasparini Quella del numero 13 Rosso-blu invece È risultata poi Essere l'unica Segnatura del Fano Che termina la sfida Con un pesante 32-3 a sfavore Ai giocatori E allo staff Ora non resta Che tirarsi sulle maniche E approfittare Del mese di stop Per provare a cambiare passo Ed evitare così La pericolosa lotteria Dei play-out Torniamo a parlare Di calcio Ora aprendo Una piccola parentesi Legata al campionato Amatoriale CSI Di calcio a 8 Che nel weekend Ha visto la disputa Della quinta giornata Continua inarrestabile La marcia Dell'IP Fenile Che grazie al 3-1 Sul Lubacari A Piagge Resta in testa La classifica A punteggio pieno A più 3 Sul punto giovane Senigaglia Che nell'ultimo turno Ha fatto suo Con lo stesso punteggio Lo scontro diretto Contro Enoteca Biagioli Scalzando dal secondo Posto gli avversari Tra i bomber Primeggia al momento Ronny Di Otallevi Del Lubacari A Piagge Con 9 gol E come più volte È successo In questa rubrica Parliamo di bocce E nello specifico Dei campionati italiani Per società Della FISDIR Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva E Relazionale Che si sono svolti Lo scorso fine settimana Ennesimo risultato Di prestigio Per i ragazzi Fanesi Dell'icepod Che tornano Da Civita Nova Marche Con un secondo posto Battuti in finale Dai padroni di casa Dell'Antropos A mettersi al collo La medaglia d'argento Sono stati Manuel De Marc Manuel Anniballi Jacopo Primavera Lorenzo Bronzini Mirko Montanari E Adelpino Moretti Accompagnati Nella spedizione Maceratese Dai tecnici Romolo Giovannini E Adriano Frattini Della San Cristoforo Da Tonino Tonelli Della Metaorense Dal presidente della FIB Marche Il fanese Corrado Tecchi E dalla presidente Romina Lesiani Il team fanese Ha preceduto In classifica Un'altra formazione locale La S.O. Sport Di Urbino E chiudiamo La pagina sportiva Di stasera Segnandovi Un interessante appuntamento In programma Giovedì 9 novembre Alla bocciofila La combattente Un convegno Dal titolo Mangio Dunque sono Dove si parlerà Di nutrizione E sana alimentazione Abbinati a sport E psicologia L'appuntamento Ad ingresso Gratuito È organizzato Dal comitato Provinciale Di Asi E vedrà La presenza Di vari relatori Tra cui Lo psicologo Semi Marcantonini E il nutrizionista Simone Piccioni L'inizio dei lavori È previsto Per le 18 Ok Allora noi ci fermiamo Qui però Voglio ricordarvi Che mercoledì sera Torna primo cittadino Questa volta Sarà nostro ospite Il sindaco Di Colli al Metauro Stefano Aguzzi Allora tutti quelli Che vogliono rivolgere Domande Informazioni Chiedere Fare domande Al sindaco Di Colli al Metauro Aguzzi Possono farlo Attraverso Il numero I numeri Che vedete In sovraimpressione Per la diretta 0721 86 14 33 Oppure tramite sms O whatsapp 338 49 68 250 Allora dopo di noi Box con i protagonisti Di Fano Poi in cucina Con lo chef Questo è il numero Di telefono invece 338 49 68 250 Per le vostre segnalazioni Grazie per averci seguito Ci vediamo domani mattina Alle 7.30 Con la rassegna stampa Occhio ai giornali Buona serata a tutti C'è già corretto un casino